Parliamo ancora di sport, parliamo di carretti, lo facciamo con Simone Ialongo dell'Associazione Carretti Valle d'Aosta, primo in classifica con suo cugino Marco Lovison. Esatto. Buonasera. Buonasera. A che punto è il campionato valdostano? Il campionato valdostano abbiamo già fatto due tappe, due gare e ne abbiamo ancora quattro da svolgere. Si concluderà a settembre, l'8 di settembre, esattamente alla Madeleine. Da sette anni esiste il campionato italiano, quest'anno la Valle d'Aosta non parteciperà, lascerà spazio un po' anche agli altri. Sì, diciamo abbiamo questa fortuna tra virgolette di essere da sette anni come Valle d'Aosta i più forti a livello nazionale della disciplina. Sono sette anni da quando tu e tuo cugino Marco correte insieme, quanto è importante l'affiatamento in una squadra di carretti? L'affiatamento nei carretti è la base dello sport, di questo tipo di disciplina perché la fiducia e l'affiatamento è quello che rende possibile i tempi, rende possibile correre, rende possibile portare a casa magari qualche risultato. Di che cosa avrebbe bisogno il mondo dei carretti valdostano? Il mondo dei carretti valdostano ultimamente avrebbe bisogno di adesioni, quindi di qualcuno, qualche nuova entrata, qualche giovane o meno giovane, chi ha voglia di correre che venga a fare questo sport perché cominciamo a essere un po' contati come equipaggi. Qualcuno che abbia voglia di correre ma anche di preparare la pista perché voi fate un po' tutto. Esatto, come direttivo si supervisiona però con l'aiuto dei comuni che ci ospitano, tutti gli atleti e nel montare e nello smontare, chi più chi meno, si occupa della messa in sicurezza del circuito. In chiusura tu volevi salutare qualcuno in particolare? Volevo fare un saluto in particolare ai due fratelli Moreno e Corrado Filippo in quanto quest'anno spero vengano a correre però per dei loro problemi personali non sono ancora riusciti a partecipare alla disciplina. Ci tengo a dire che sono i campioni in carica e che quindi lo spettacolo manca. Grazie per essere stato con noi, un augurio ai fratelli Filippo.